Cerchiamo di rivalutare le cose che non riusciamo a utilizzare nel servizio normale di guardaroba, quindi nell'assistenza delle persone che in questo momento sono in difficoltà, per tanti motivi di cui magari abbiamo già parlato, anche per un fatto di taglio, un fatto di colori, un fatto di prodotto che di là non è più accettato. E' nato dopo la vetrina che c'è in Piazzale Torino. Qui ci distingue un pochino dall'altra perché abbiamo abiti da sposo anche un po' più ingombranti che non hanno stagione, infatti non viene fatto qui il cambio di stagione, rimane un po' tutto sempre a disposizione di chi vuole darci una mano. E anche gli abiti da bambino che di là non si trovano, in modo che tutto quello che ci necessita poi nella distribuzione normale, essendo qui vicino, viene portato e preso a secondo delle necessità. Abbiamo poi dei mobili, per adesso abbastanza piccoli, dei libri sempre a offerta, delle cose, delle oggettistiche per la casa, un pochino di biciotteria e poi ultimamente abbiamo anche prodotti che vengono dal laboratorio del Nodo, dove vengono inserite anche persone che hanno un progetto lavoro, vengono quindi aiutate in un momento di difficoltà della loro vita e abbiamo appunto prodotti fatti all'uncinetto, fatti biglietti di Natale, anzi forse è meglio che in questo momento, se qualcuno vuole venire a vedere e dare una mano alla Caritas, anche in questa maniera, è il momento in cui può trovare anche un po' di cose per un'idea regalo per Natale. Questo ricavato che noi abbiamo da questa attività, volevo ribadire, va direttamente in aiuto alla gestione Caritas in generale e particolarmente per rifornire di intimo, di pantaloni, di scarpe, di lenzuola, tutto quello che manca a un certo punto nella distribuzione normale e viene acquistato anche grazie a questo introito che c'è attraverso queste vettrine. Quando si possono portare i vestiti che si vogliono donare? Allora, gli abiti si portano dal lunedì al giovedì, che noi siamo aperte come guardaroba, dalle nove e mezza a mezzogiorno. Oppure al venerdì, noi non ci siamo, però ci ha aperto il capannone dove ci sono i ragazzi che lavorano insieme a noi e si possono portare lì. Quando è tutto chiuso si può utilizzare la campana gialla che viene usata solo da noi come guardaroba, quindi viene direttamente lì nel guardaroba, come se lo portassero.